l'ululato sale nella notte seguito subito da un altro è il concerto notturno dei lupi che ammalia e lascia sgomenti gli uomini chiusi nelle loro case è la voce del selvatico che che già dalla notte dei tempi stavolta però l'ululato dei lupi non rimbalza fra le rupi selvagge dove l'uomo non mette piede ma dai prati innevati a due passi dalle case di asiago il video è stato girato da federico povoledo cuoco asiagese e grande appassionato di natura direttamente dalla sua abitazione eccoli i figli della notte che cantano la loro canzone la luna piena federico viene svegliato ogni notte dal concerto di lupi a meno di 100 metri da casa sua ed è riuscito anche a filmare gli animali con un visore notturno il video è stato rilanciato dai social che trattano di faccende altopianesi ridestando il dibattito sulla presenza dei lupi nella zona dei sette comuni di questo parleremo e riparleremo domani ora è il momento di ascoltare la loro voce ancora una volta ora è il momento di ascoltare la loro voce